Taglio del nastro per il ponte di Piantravigne nel comune di Terra Nuova Bracciolini, un'opera riqualificata e messa in sicurezza che si è integrata con il passaggio della dodicesima edizione della corsa ciclistica d'epoca alla Marzocchina. Si tratta di un'opera molto importante, la cui inaugurazione avviene proprio nel contesto di una delle manifestazioni più sentite da parte dei ciclisti del Val d'Arno, come sappiamo la nostra è una terra di ciclismo che porta con sé tantissima passione. Questo è stato un intervento molto significativo che ha presupposto l'investimento di 505.000 euro, di quali quota parte di risorse comunali e una parte consistente derivante dal PNRR, a testimonianza ancora una volta della capacità di intercettare i finanziamenti da enti sovraordinati che ci permettono di aumentare le risposte rispetto a quelle che sono le esigenze e i bisogni del nostro territorio. Nello specifico il grosso dei lavori ha riguardato il rafforzamento dell'impalcato e delle travi del ponte, così come la sostituzione del guardrail, l'illuminazione pubblica e per quanto riguarda invece le pile, il restauro dei paramenti delle stesse. È stato un lavoro significativo che sicuramente restituisce funzionalità e sicurezza a quest'opera che tra l'altro si inserisce in un contesto bellissimo perché il borgo è veramente di alto valore e in più da qui si gode della bellezza di un paesaggio che è contraddistinto alla presenza delle balze. Grazie. 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 Grazie.